Invece l'atleta che vedete inquadrato in questo momento sulla pedana del corpo libero femminile è Lorena Cozza. Lorena viene dal centro tecnico regionale del Comitato Lazio che si trova a Roma alla Cacetosa insieme a Enrico Erbacci che abbiamo visto alle Parallele e a Giorgia Bonanni che ha gareggiato ieri. Sono ragazze che hanno la possibilità di fare il doppio allenamento mattina-pomeriggio e hanno una scuola speciale. Direi che si sta comportando bene anche il corpo libero. Ieri aveva un risentimento alla schiena, era molto preoccupata, forse l'emozione, oggi la vedo molto ma molto meglio. Adesso viene la corbatica finale e speriamo che le gambe la reggano innanzitutto e che trovi la spinta giusta per terminare bene questo esercizio. E' fuori pedana.